salve amici e amiche allora apriamo oggi con l'assemblea generale delle nazioni unite fra l'altro qualche ore fa ho pubblicato il video di ellie non so se l'avete visto in cui appunto floris sulla sette le chiedeva cosa ne pensa delle dei dissenzi sul sostegno all'ucraina interni delle votazioni e lei ha risposto ovviamente con la risposta automatica sbagliata come ho scritto nel video ma perché ho pubblicato quel video perché sarebbe bello secondo il mio modesto parere per quello che ne capisco di politica cioè niente sarebbe bello in italia avere degli uomini o delle donne che parlano con cognizione di causa che rappresentano il buon senso quanto meno specialmente nella sinistra voglio dire io personalmente mi reputo una persona democratica quindi mi piacerebbe che a prescindere le nostre forze politiche fossero consapevoli e ben rappresentate da persone che occupano dei ruoli importanti quando che fanno delle affermazioni di un certo tipo però purtroppo abbiamo quello che abbiamo e va bene così comunque all'assemblea generale delle nazioni unite in queste ore ci sono stati parecchi interventi apriamo con quello russo vasili nebedienza credo che si dica così che ha detto sintetizzo abbiamo sempre trattato con rispetto gli ucraini ma se il campo occidentale non ci permette di sbarazzarci di questo tumore che è il regime di chiev in modo pacifico continueremo la nostra difesa militare bene 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 allora vabbè questo personaggio si sa ormai è un clown non c'è non c'è neanche bisogno di commentare quello che ha detto perché andiamo oltre anche le convinzioni più assurde dei commenti dei filorussi che ho letto in questi giorni comunque l'ucraina è una democrazia ha avuto 5 presidenti diversi negli ultimi 20 anni il che è normale come avviene in tutti i paesi che hanno delle elezioni democratiche quindi dire che è un regime è un po un'assurdità soprattutto da parte di una nazione che ha lo stesso presidente da 20 anni uno stato letteralmente corrotto e mafioso ai massimi livelli e che ha invaso una nazione democratica quindi no l'importante ecco come si stava dicendo prima avere le idee chiare a proposito idee chiare ecco io faccio un una proposta adesso oggi scusate mi stanno andando a braccio e non so se si è notato ma non ho scritto l'articolo quindi sto commentando in tempo reale però da italiano e dal penso di far parte di quel buon 30 35 per cento di italiani che sono completamente disillusi dalla politica che spesso non votano o addirittura votano il male minore come si dice da noi ecco da italiano pretendo che i nostri politici siano come lui che abbiano questo coraggio quando vengono intervistati di dire le cose come stanno e infatti sicorsky ministro degli esteri polacco l'ha detta riparto riparto purging whole provinces stealing children let's not forget vladimir putin is an indicted war criminal bombing uh civilian targets uh hospitals schools uh housing estates uh and for what for what purpose for what reason you know we after two bloody world wars we established a taboo that you may not invade countries on the pretext of coming to the assistance of your compatriots on the other side of an international border if you have a gripe about that you go to the council of europe you go to international courts you don't send in the tanks and these taboo are important beh direi proprio di sì voglio dire no se il problema dell'ucraina erano i cittadini russi nel donbass che senso aveva invadere tutta l'ucraina arrivare fino a kiev no spiegatemelo quindi sì ecco lo ripeto mi piacerebbe che in italia ci fossero persone con questo coraggio nelle parole giusto per evitare di fare sempre la parte come diceva sandro pertini no che l'italia è un porto sicuro per tutti un posto diciamo che fa sempre buon viso a cattivo gioco o diciamo non si chiude mai le porte ora il segretario per quanto riguarda le nazioni unite della gran bretagna david lemmy ha espresso anche la sua visto che stiamo parlando di personaggi politici ripeto anche questo personaggio secondo me sarebbe bello averlo in italia una persona così ha parlato proprio direttamente al cremlino con queste parole lo traduco in tempo reale ok io vorrei parlare direttamente al cremlino ha detto ha detto vorrei rivolgermi direttamente al cremlino ai rappresentanti della russia seduti qui al tavolo delle nazioni unite e direttamente a vladimir putin ha detto la russia siede a questo consiglio ma le sue azioni sono contro la carta delle nazioni unite ma in questa in questo weekend abbiamo visto che tutte le azioni del suo rappresentante hanno avuto solo l'intenzione di rompere il piano delle nazioni unite e del suo futuro la russia si è dichiarata di farsi promotrice e difensore del sud del mondo ma ovviamente va contro tutte le leggi internazionali vladimir putin vladimir putin quando lanci missili sopra gli ospedali ucraini noi sappiamo chi sei quando mandi mercenari nei paesi africani noi sappiamo chi sei quando uccidi i tuoi opponenti politici nelle città europee noi sappiamo chi sei la tua invasione è solo nel tuo interesse personale per espandere il tuo stato mafioso in un impero mafioso un impero costruito sulla corruzione quindi questo era l'intervento della gran bretagna nel convegno nelle nazioni unite ora diciamo che è stato molto interessante tutto quanto ma andiamo avanti allora tra l'altro come ho detto prima il responsabile della russia ha parlato di difesa il fatto che l'ucraina è un regime e che la russia poverina l'unica chance che ha è di difendersi e lo fa in questo modo giustamente lanciando droni e missili contro le città e i civili ucraini questo sono giusto il report di oggi ci sono stati attacchi in tutta l'ucraina settentrionale allora commentiamo un attimo le notizie che arrivano dal fronte per quanto riguarda la situazione a sud presso la cittadina di vule dar è piuttosto drammatica l'ho già accennato nei video precedenti vule dar è un villaggio non è una città cioè anche se in realtà è costituita da palazzi è solo una un'area residenziale niente di più le immagini che arrivano da vule dar sono assolutamente drammatiche in questa immagine del satellite si vedono gli incendi perché in questi due giorni la cittadina è stata sistematicamente presa di mira dai bombardamenti e dall'artiglieria russa è stata rasa al suolo letteralmente si è parlato almeno molti analisti dicono che gli ucraini si stanno ritirando che dovrebbero ritirarsi da quest'area che perdere vule dar non è importante la cosa più importante è infliggere il maggior numero di perdite ai russi il che ha senso però però fino a un certo punto allora l'importanza di vuole dare realtà come città è minima la cosa importante è la strada che funge da collegamento per tutta la regione il fatto che spingendo via le forze ucraine da questa zona i russi mettono al sicuro questa strada adesso provo questa strada logistica che collega il nord con la crimea i russi devono proteggerla da eventuali attacchi di artiglieria ucraina e quindi chiudendo vule dar rendono più difficile l'intervento ucraina soprattutto c'è quest'altra via importante di collegamento e poi il fiume quindi i motivi per cui i russi stanno spingendo da mesi mesi per conquistare questo piccolo villaggio è solo questo perché di suo la cittadina non ha niente di importante comunque questi sono i report questi sono tutti attacchi di artiglieria russo e si vedono i video fanno paura si vede letteralmente la città venire rasa al suolo comunque gli ucraini rispondono ieri fra ieri l'altro ieri ci sono stati parecchi attacchi di successo contro mezzi russi ci sono droni e c'è questo video per esempio che testimonia che in realtà i soldati ucraini non vogliono andarsene dalla città questo è un soldato della 72esima brigata continuano a resistere quindi poi arrivano altre immagini questa invece questa immagine possiamo vedere arriva dall'area di pokrovsk dove i russi cercano da mesi e mesi di raggiungerla zoomiamo per vedere i se i famosi 6 chilometri ancora non sono riusciti a coprirli questa è una distanza di 6 chilometri giusto perché su questa linea gli ucraini stanno facendo una risposta adeguata per non usare altre parole sperando che oggi non mi video non mi venga demonetizzato quindi non ci sono stati progressi nella conquista di territori verso pokrovsk se non minimi parliamo di questi 200 metri nei campi mentre i russi hanno subito devastanti perdite anche oggi poi ci tornerò da questo punto di vista come vedete tutta la linea questa linea del fronte è costellata di azioni ucraine tutti i segnalini blu sono attacchi di artiglieria artiglieria droni 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 20 21 22 23 24 e 25 tutte queste azioni sono ucraine sulla linea del fronte russo quindi non ci sono progressi significativi mentre la città di new york se fino a qualche giorno fa gli ucraini avevano liberato questo quartiere adesso i russi sono riusciti a riprenderlo ecco il 12 dal 12 a oggi sono riusciti a riprendere questo quartiere allora andando avanti non ci sono altri progressi significativi nella direzione di toresk se non appunto dal 20 a oggi questo avanzamento da parte russo ha avuto degli effetti qui come possiamo vedere la risposta è stata da parte ucraina la distruzione di alcuni mezzi l'utilizzo di droni qui abbiamo alcuni soldati russi in fuga che si sono ritirati questa è l'azione dell'artiglieria russa e il 21 i combattimenti insomma hanno iniziato a interessare toresk per quanto riguarda ciasi viar non ci sono non c'è stato nessun cambiamento andiamo avanti sulla linea del fronte ci sono diversi stati diversi combattimenti che hanno distrutto le forze ucraine hanno distrutto delle postazioni di artiglieria russa con molta efficacia il 24 e il 25 qui ci sono dei soldati che si sono arresi un gruppo di soldati russi che si è arreso è stato catturato attraverso l'azione dei droni e dell'artiglieria sempre allora cosa molto interessante andiamo a vedere a subito a voi chask i progressi che vi avevo accennato nel video precedente i progressi erano voci di corridoio realtà che non potevo confermare in realtà oggi abbiamo notizie più certe il centro di aggregazione questa zona industriale di voi chask ora non fate caso alla immagine che vediamo perché in realtà mostra la città com'era prima della guerra adesso è una distesa di macerie che neanche hiroshima un altro po comunque questo era il centro di aggregazione in cui erano arroccati dei soldati russi che hanno resistito per mesi mesi a continui attacchi dronici di artiglieria venivano diciamo tenuti in posizione da rifornimenti portatili con droni da parte russa l'azione di liberazione del centro di aggregazione era stata pianificata con cura da parte ucraina sono arrivate queste immagini questo punto budanov insieme a nikitin che hanno pianificato l'incursione che poi è avvenuta con l'intervento di questi soldati che hanno fatto appunto una foto di gruppo e oggi il centro di aggregazione se fate caso ve lo mostro sta oggi infatti appare l'area appare blu è stata finalmente liberata per mesi questo piccolo segmento della città era stato tenuto occupato dai russi quindi vediamo se riesco ad andare molto indietro settembre ecco febbraio 2024 marzo da maggio ecco qua da sei mesi praticamente quindi interessante che oggi lo vediamo liberato finalmente ed è una buona notizia ora mentre per quanto riguarda la regione di kursk non ci sono notizie molto interessanti almeno non eclatanti continua il tentativo di riconquista da parte russa sulla direttiva sud est e sud mentre le forze ucraine sappiamo che stanno occupando più più aree in quest'area nella zona centrale qui con una direttiva verso nord est e nord ovest la conferma di questo è e grazie a questo report che vediamo sappiamo che le forze ucraine stanno combattendo nel villaggio di veseloye e si sono spinte fino a quest'altro che è impronunciabile per me a proposito ho letto un commento di un filo russo che mi ha detto che faccio malissimo il mio lavoro perché non parlo il russo basta quindi basta parlare russo mi dispiace faccio già fatica a parlare tre lingue quasi due lingue e mezzo quindi il russo non fa parte mi dispiace della del programma allora come dicevo è interessante questa direttiva che ci mostra perché qui in quest'area c'è un'azione c'è un video che non vi posso mostrare questo qui ve lo passo qui sotto se vi interessa perché in questa direttiva andiamo a vedere dalla mappa di mayakosk che colgo l'occasione per ringraziare non è stato ancora aggiornato ma qui le forze ucraine sono riuscite ad avanzare spingendosi e liberando l'area con dei mezzi antimina quindi hanno fatto brillare le mine nell'area per poter avanzare e questo è quanto almeno per quanto riguarda gli aggiornamenti del fronte ora alcune notizie correlate in questo video un volontario ucraino sta evidenzia la criticità legata al ponte di kirk vediamo se riesco a mostrarvelo questo ponte è fondamentale per tutta l'area della crimea in quanto fornisce è l'unico punto di logistica che i russi hanno di trasporto logistico che i russi hanno quindi questo in questo video questo volontario spiega che i russi stanno continuamente rinforzando il ponte e vogliono in qualche modo questo è segnale che stanno preparando qualcosa quindi è fondamentale che gli ucraini abbiano il supporto dell'occidente per poter usare dei missili a lungo raggio capaci di colpire il ponte e ovviamente se devi distruggere una struttura come questa non puoi farlo con dei droni c'è un conto sono dei droni che riescono a colpire un deposito di munizioni a cielo aperto ok ma un altro è far saltare una struttura in cemento pesante così per fare quello l'unica cosa che ti serve sono missili da crociera e devono essere anche molto validi quindi gli unici sarebbero storm shadow tomahawk missili di questo tipo che hanno altissime velocità e volano a bassissima quota è molto difficile intercettarli e quindi questo è insomma hanno la capacità esplosivo di esplosivo di penetrazione per poter distruggere questo tipo di strutture quel tipo di missione si chiama strike apposta arrivano poi notizie di conferma per le forniture all'ucraina da parte americana nel pacchetto l'avevo già accennato una ventina di giorni fa nel pacchetto sono compresi missili missili per le f-16 missili aria aria missili aria terra si è parlato poi di forniture dei proiettili di artiglieria di 155 mm e 105 mm e missili tow notizia quindi confermata andiamo avanti in questo articolo di chris o wiki che ringrazio tantissimo è veramente bravo perché fa un ottimo lavoro di traduzione oppure intercetta le fonti russe direttamente e proprio in questa fonte russa c'è una denuncia evidenziata in 19 punti che ve la passo in descrizione in cui fondamentalmente si spiega come i comandanti sul campo russi vogliono cercare di impressionare i loro superiori a tutti i costi cioè vogliono dimostrare di riuscire a conquistare terreno ucraino a qualsiasi costo e fregandosene della vita dei propri soldati quindi questo è l'atteggiamento che giustifica le perdite tra le file russe quindi è una cosa estremamente drammatica nel senso non si vedeva un atteggiamento così non si vedeva da parte dei comandanti sul campo non si vedeva neanche nella prima guerra mondiale praticamente questa disumanità e non è una bella cosa nel senso per due motivi il primo è che c'è il concreto rischio di una che l'esercito ti vada in rotta di collo si ribelli primo la non efficienza totale delle forze che mandi avanti perché parliamoci chiaro non ottieni nessun risultato così e l'ultimo ma non meno importante è che se mandi al macello nel tritacarne il tuo esercito poi come li tieni i territori occupati se non ce l'hai i soldati e questo non è un problema da poco andiamo avanti allora in questo articolo interessante viene proposto quello che vi avevo già accennato per quanto riguarda le nuove tecnologie militari russe si parla del su 57 che dovrebbe essere l'aereo più avanzato più moderno nell'arsenale russo una specie quasi di aereo di quinta generazione in realtà non lo è paragonabile di più a un aereo di quarta generazione che altro però ha delle diciamo intenzioni la macchina delle intenzioni di essere un aereo con una riduzione della propria firma radar un radar digitale quindi una sensoristica un po più avanzata rispetto al modello precedente il su 30 e velocità anche di supercruise quindi comunque un aereo avanzato il problema qual è che con l'arrivo delle sanzioni la russia non ha più accesso a quelle componenti che non può costruirsi da sola stiamo parlando dei sistemi digitali dei sistemi di guerra elettronica delle anche delle cose più piccole come le palette dei motori per esempio o i materiali compositi che sono necessari se almeno vuoi ottenere un aereo stealth quindi tutte queste tecnologie non sono disponibili oggi in russia di conseguenza quello che viene spiegato in tutto questo documento di analisi russo di denuncia da parte dell'azienda è che fondamentalmente l'azienda non può più permettersi di tenere attiva la linea di produzione quindi il su 57 è fermo con le quattro frecce non può essere non può essere prodotto andiamo avanti se vi ricordate questo ragazzo è stato tenuto prigioniero per un anno e vi ho mostrato nel video precedente il suo abbraccio alla madre in cui non riusciva neanche a riconoscerla a causa del trattamento disumano che ha ricevuto in prigionia ha perso l'uso della parola a questo ragazzo c'è un video che sta circolando che mostra appunto come oggi sta in ospedale e sta recuperando e ha iniziato a parlare di nuovo nel video in cui abbraccia la madre si vede che è magro ma vederlo in ospedale fa ancora più impressione diciamo piuttosto deperito fa piacere sapere che sta recuperando quindi allora andiamo avanti per vi passo in descrizione questo video molto interessante che viene dalla Moldavia dove c'è un cittadino che fondamentalmente se la prende con i soldati russi giustamente dice che cosa ci fanno i russi nel mio paese che è un paese neutrale ok questo è un video interessante ve lo passo in descrizione perché youtube non me lo passa non so perché perché alla fine non c'è nient'altro che qualche scambio di opinioni diciamo così fra questo cittadino della Trasnistria e due soldati russi che lo fermano però se ci pensate provate a mettervi nei suoi panni immaginate che ne so che siete un cittadino svizzero e vi ferma una pattuglia italiana non si sa come ma non una pattuglia anzi due soldati dell'esercito italiano provate a immaginare e niente per concludere vi passo un video che arriva da Odessa Ucraina quindi che testimonia che insomma la vita continua in qualche modo e che gli ucraini non sono un popolo così cioè la felicità esiste ancora in Ucraina e loro addirittura balano per le strade Ucraina Ucraina e niente amici con questo vi saluto come sempre se volete sopportarmi sostenermi in questo progetto potete farlo qui sotto trovate tutti i pulsanti di youtube se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un mi piace come sempre un abbraccio alla prossima